Il simbolo della concorrenza sleale cinese, nella prato nella quale le imprese italiane continuano a chiudere, le imprese cinesi continuano a proliferare, non perché gli imprenditori cinesi siano più bravi di quelli italiani, ma banalmente perché non rispettano le stesse regole. Abbiamo chiesto alle persone che abbiamo trovato qui se ci possono dire quante persone lavorano qui e non ci hanno voluto rispondere perché pare che sia una domanda troppo imbarazzante e che noi dicono che noi non possiamo stare qui. Ecco questa è la situazione. Perché non possiamo interare? Perché non possiamo interare? Mica siamo a fare niente di male? Stiamo guardando, qual è il problema? Qual è il problema? Se entro in una qualunque fabbrica italiana mica mi rompono le scatole. Perché no? Qual è il problema? che cosa? Non si può fare così! Vuoi fare appartamento? 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 Lui è il signor Cosimo che come vedi ha qualche problema per muoversi. Dice che avete messo da otto mesi un cartello con scritto pericolo ma non avete fatto niente per risolvere il problema dei marciapiedi. Ci puoi dare una mano sindaco Nardella? Grazie! Bravo!